Buongiorno a tutti, buongiorno e ben ritrovati alla nostra consumita rassegna stampa. Occhio ai giornali delle 7.30 fino alle 8.30 a Rullo, poi alle 9.10 e alle 13.30. Un cordiale saluto e ben ritrovati. E cominciamo subito con il Santo del Giorno. La Chiesa oggi ricorda Sampio X, il sole è sorto alle 6.18 e tramonterà alle 20.04. Sono 20 gradi, 20 gradi questa mattina, freschino, si dorme bene la sera adesso, anzi ci vuole proprio un pigiamino per stare bene. E allora questo è il tempo che ci aspetta, o meglio, questo è il tempo che in questo momento c'è. Vedete queste nuvole, tra l'altro anche molto basse. Guardate che bell'effetto questa fotografia scattata dalla nostra webcam nell'osservatorio meteorologico. Dicevo 20 gradi della temperatura, per oggi la protezione civile delle marche prevede, adesso centriamo meglio anche l'immagine, ecco qua, prevede cielo poco o irregolarmente nuvoloso nella mattinata con addensamenti cumuliformi sui rilievi invece nelle ore centrali. Prevalenza di cielo sereno nel pomeriggio, con precipitazioni ovviamente che saranno dunque al mattino, anche qualche breve piovasco lungo la fascia costiera, mentre nel cuore della giornata ci saranno locali rovesci nei settori interni, però meridionali della regione. Le temperature sono in lieve aumento, avremo venti settentrionali, il mare sarà mosso. Per sabato, domani, avremo invece un cielo sereno poco nuvoloso, con temperature in aumento, i venti da nord, il mare sarà mosso. Domenica, domenica 23 agosto, cielo sereno poco nuvoloso, con temperature in aumento, venti di brezza leggera nord-occidentali, il mare sarà mosso. Quindi per avere il mare mosso vuol dire che c'è anche vento, vento che può essere anche fastidioso in alcune situazioni, probabile lieve peggioramento per la giornata di lunedì, seguito da un ritorno però di condizioni di tempo bello e dunque soleggiato. Allora, andiamo a leggere i giornali, c'è stato un brutto incidente ieri, un brutto incidente a Fano con una donna che è finita all'ospedale, all'ospedale di Torretta, andiamo sul resto del Carlino. Eccola qua la notizia, è finita questa donna contro un'auto, è stata soccorsa dall'illiembulanza, è uno schianto in scooter, donna grave. Ennesimo incidente a Rosciano, all'incrocio tra via Campanella e via Galilei, è ricoverato ora in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torretta, e Patrizia Perugini, 54 anni di Fano, che è stata travolta da un'auto mentre svoltava nella strada che dal Codma porta a Sant'Orso, ai medici del 118 accorsi sul posto, su chiamate dei residenti, le condizioni sono apparse immediatamente gravi, tanto da chiamare l'illiembulanza per il trasporto in Ancona. Erano da poco passate le 17, quando una Rover 25 l'ha centrata. Poi le altre notizie, la morte cerebrale per la giovane in overdose, deciso l'espianto per donare gli organi, la 32enne di Lucrezia non ce l'ha fatta dopo l'iniezione, è salvo invece il compagno, si parla di storie di droga, si parla dei drammi della droga. Ieri mattina i medici dell'ospedale Santa Croce di Fano hanno dichiarato la morte celebrale per questa 32enne di Lucrezia, finita in overdose mercoledì mattina, dopo essersi fatta di eroina assieme al suo fidanzato di 38 anni. Poi si parla di turismo e di economia, sulla pagina fanese del resto del Carlino, Seri, il sindaco, pensa al rimpasto di giunta. L'assessore al bilancio e alle attività economiche, Carla Cecchetelli, e il vice sindaco Stefano Marcheggiani, con il sindaco Massimo Seri. C'è questo articolo che riguarda la politica locale, un cambiamento, sì, un cambiamento che non sarà in dolore, scrive il resto del Carlino, visto che entrambi gli assessori e gli assessorati sono gestiti da due esponenti del Partito Democratico. Però ci sarà un rimpasto, quasi sicuramente, con le deleghe, in particolare quella del turismo, che probabilmente verrà tolta a Stefano Marcheggiani e andrà a qualcun altro. Allora, andiamo sull'altra pagina del resto del Carlino, a Fossombrone. Il veto di Fossombrone, strade cittadine vietate agli scuolabus forestieri, difendiamo il futuro dei nostri istituti. E poi altre notizie, sempre dalla pagina di Fano, scoppia la guerra dei carri, frattura ormai insanabile, i maestri carristi sono ancora polemici, con il presidente dell'ente carnevalesca, Luciano Cecchini. Ormai è guerra, così scrivono, tra i maestri carristi e la carnevalesca, lo strappo tra i due soggetti protagonisti del carnevale di Fano, è ormai arrivato al punto di insanabile. E non c'è tavolo di confronto che possa tenere uniti entrambi i lembi per rattopparlo. Basta deleghe in bianco, scrive ancora il giornale, il Carlino, basta deleghe in bianco a fronte di contributi pubblici di 130 mila euro. Poi ancora si parla di Aset Spa, conti in regola, il fatturato della società pubblica, il fatturato è in crescita, la differenziata è in aumento. Poi ancora, ancora dal giornale, cambiamo giornale, andiamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, anche qui si parla di carnevale. Carnevale, progetto di sviluppo con associazioni e fondazioni. I maestri carristi allargano il confronto e criticano invece l'ente carnevalesca e anche Alberto Berardi. Alberto Berardi, che è già stato presidente dell'ente manifestazioni, dei carnevali d'Italia, eccetera, eccetera, che però a un certo punto, qualche giorno fa, se ne è uscito dicendo che il punto di forza del carnevale di Fano non è tanto il carro in sé per sé quanto il getto dei dolciumi. E quindi, naturalmente, è stato criticato, come era prevedibile, d'altra parte, dai carristi. Carta in regola, bellezza violata, invece siamo sulla splendida Porta della Mandria, ma che, come vedete, sullo sfondo ha qualcosa che stona un pochettino. A pochi metri, infatti, lungo le mura romane, c'è questa nuova costruzione edilizia che si intravede. Eccola qua. Porta della Mandria, il Centro Studi Vitruviani chiede più tutele alle soprintendenze. Ancora, dal Corriere Adriatico, pellegrinaggio a piedi nella notte, stanotte, per 17 chilometri. Un bel pellegrinaggio dal Santuario Mariano di Cartoceto a quello di Spicello. Si parte alle 2 di notte e si arriverà all'incirca, intorno alle 6.50 a Spicello. Sono 17 chilometri. È un pellegrinaggio che è stato ideato nel 1993 e ogni anno davvero partecipano centinaia e centinaia di persone, oltre 2.000 nelle ultime edizioni. E sono attesi, fedeli, provenienti da diverse comunità, dai diversi comuni della Valle del Metauro e anche del Cesano. Poi, sempre sul Corriere, questo è l'anno del rilancio. Siamo a Marotta, Bagnini soddisfatti della stagione 2015, due carte vincenti per Marotta, il bel tempo e gli eventi di qualità. Ma non solo, anche l'unificazione di Marotta ha migliorato l'offerta al Comune e ora si richiede una riqualificazione. Andiamo a Senigallia. Falcia, una giovane, scappa e si costituisce, il pirata pentito è un giovane papà. C'era la figlioletta, con lui nell'auto, con cui ha avuto l'incidente. sempre dal Corriere, questa volta, sempre da Senigallia, si ferma al bar e gli rubano il riscio, e il riscio sono questi mezzi di trasporto che si usano d'estate per fare due passi, come se fosse una bicicletta, insomma, a quattro posti, anche, sì, quattro posti. Ora dovrà risarcire il titolare del noleggio sul lungomare Marconi. Adesso, invece, apriamo il messaggero. Il messaggero torna su una notizia che già abbiamo visto, e non è una notizia nuovissima, però quella degli sfottò sul web per la piazza che dovrebbe essere realizzata alla Pala di Pomodoro. Guardatela, eccola qui. Nuova piazza, oppure Eliporto. Sfottò sul web. Un fotomontaggio appare da giorni sui social network e si arricchisce di commenti. anche divertenti, esileranti. Insomma, siamo praticamente alla Pala di Pomodoro di Pesero. Questo è il rendering di come dovrà, di come è stata progettata la piazza. Però il web l'ha modificato, questo rendering, e l'ha trasformato in un Eliporto con addirittura un paracadutista che scende, purtroppo, ahimè, anche l'ambulanza, l'eliambulanza gialla che siamo abituati a vedere e a conoscere. Poi, ancora, sempre dal messaggero, vediamo l'altra notizia, un'intervista, un pezzo sull'ospedale unico del quale parla il vicepresidente del Consiglio regionale, Renato Claudio Minardi. Minardi dice la nuova struttura unica e imprescindibile e sbocco naturale dell'attuale integrazione dei servizi. Il vicepresidente del Consiglio regionale dice la soluzione va presa d'intesa con i sindaci delle valate del Metauro, del Foglia e del Cesano. Dunque, ancora, su questo benedetto ospedale unico non si sa bene dove, quindi siamo ancora lontani, dove farlo. Ricorderete, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci aveva parlato, indicato come possibile sito quello di Muraglia, quindi siamo nel comune di Pesaro e invece il sindaco di Fano Massimo Seri per la località di Chiaruccia che è un'altra località abbastanza strategica cioè vicino alla strada, vicino all'autostrada, vicino alla superstrada insomma, ecco, e quindi si tratta adesso di trovare una location, come si dice. La pagina invece di Fano del messaggero questa pratica torna su una notizia che ha dato già ieri e che ha messo in allarme tutte le associazioni sportive che frequentano il palazzetto dello sport. Sapete che al palazzetto dello sport ci saranno dei lavori per smantellare l'amianto che lì è ancora presente e quindi dovrà essere chiuso per qualche mese. Il palazzetto chiuso per mesi società sportive in emergenza questo è il titolo dal primo ottobre parte dunque la bonifica per l'amianto si studia un piano per ospitare però le attività e quindi non farle fermare perché chi fa sport sappiamo benissimo che non può fermarsi è una questione anche fisica. L'Aurora dice perderemo tante ore fanno basket prevediamo gravi disagi l'assessore però Del Bianco assicura che il programma sarà definito tra la fine del mese e l'inizio di settembre. Del Bianco è un bravo assessore è uno che è una persona che si impegna molto quindi sicuramente riuscirà a trovare la soluzione a questo impasse ma che tra l'altro come diceva poi giustamente ieri anche Paoloni che è colui che gestisce il palazzetto dello sport quando c'è di mezzo la salute insomma qualche sacrificio bisognerà anche farlo insomma è meglio stare in un palazzetto dello sport dove non c'è l'amianto piuttosto che continuare a fare attività con l'amianto sulla testa ma al di là di questo che può essere anche banale insomma bisognerà cercare adesso di trovare qualche alternativa e qualche cosa anche se non siamo pieni di infrastrutture o strutture sportive fanno purtroppo anche questo un grosso problema di mancanza di strutture ma insomma speriamo che si possa trovare la soluzione giusta dunque sotto invece mura romane si chiedono più tutele appello del centro studi vitruviano intanto esposte bandiere a lutto sui musei contro la barbarie dell'isis anche qui è un appello che è stato accolto a livello nazionale ci fermiamo la rassegna stampa è finita queste sono le notizie che vi abbiamo selezionato dai quotidiani che come sempre troverete nella vostra edicola di fiducia noi ci ritroveremo invece questa sera alle 20.30 per Occhio alla Notizia il telegiornale ma vi ricordo anche che c'è il nostro portale internet occhianotizia.it e come sempre aspettiamo le vostre segnalazioni per noi sono molto importanti le vostre segnalazioni dall'incidente alla buca qualunque cosa avete un numero sempre a vostra disposizione il 338 4968 250 buona giornata a tutti arrivederci a tutti